Ancora roghi accesi nei pressi dell'accampamento abusivo vicino l'area abbandonata di stacchini. Succede ogni notte a Tivoli Terme dove i residenti sono costretti a convivere con fumi e odori novesabbondi che si innalzano senza controllo invadendo tutto il quartiere. Nelle immagini che Tiburno.tv mostra in esclusiva e registrate nel cuore della notte di giovedì 31 luglio si vedono i fuochi accesi accanto alla baraccopoli abusiva. Nell'area respirabile un forte odore di plastica bruciata. Proprio pochi giorni fa il comune di Tivoli ha annunciato maggiori controlli per arginare la situazione d'emergenza.